Sindaco, lei ha firmato questa raccolta firme e ha dato soddisfazione a queste mamme ascoltando quella che è la loro richiesta. Che cosa ha detto? È una firma simbolica perché come sapete io ho inviato una lettera già circa due settimane fa all'attenzione del Presidente della Regione Piemonte, dell'Assessore Regionale alla Sanità e della Dirittrice dell'Asra, in cui ho chiesto la riapertura del country pediatrico immediata con due o tre posti letto almeno e poi la riapertura dei servizi di pediatria e ostetricia. Quindi diciamo perfettamente allineata con la legittima richiesta delle mamme che hanno, ripeto, delle legittime preoccupazioni. Il 3 agosto vi ritroverete in quella riunione della rappresentanza che lei ha chiesto. Pensa che su quel tavolo potrà portare questa questione? Beh, ho chiesto la riunione della rappresentanza proprio per parlare sì di riorganizzazione generale ma in primis proprio di questo problema e certamente lo porterò al tavolo con una certa determinazione.